Benissimo, Lenyon, certamente ricorderai il giornamento fatto. Ciò che vedrai sarà sotto il sigillo del nostro segreto professionale. Adesso tu, che per anni sei rimasto vincolato a una visione ristretta e materiale, tu che hai sempre negato il valore della medicina trascendentale, tu che hai sempre deriso coloro che ti erano superiori. Guarda! 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 Guarda!